Per contrastare il Covid, dobbiamo essere prudenti, ma ci avviciniamo al Natale più preparati e più sicuri. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo in aula alla Camera in Vista del Consiglio UE al Via da Domani. L'arrivo dell'inverno e la diffusione della variante Omicron dalle prime indagini, molto più contagiosa di quelle finora prevalenti ci impongono la massima attenzione nella gestione della pandemia, da Covid. I contagi sono in aumento in tutta Europa. Nell'ultima settimana, all'interno dell'Unione Europea, si sono registrati in media 57 casi al giorno ogni 100.000 abitanti. In Italia, l'incidenza è più bassa, quasi la metà, ma è comunque in crescita, ha affermato il Premier. I dati di oggi descrivono però un quadro molto diverso rispetto all'anno scorso. Il numero totale di persone attualmente positive al virus in Italia è 297.000. 12 mesi fa erano 675.000, nonostante un livello di restrizioni molto maggiore. Le persone ricoverate sono 8.026. Il 14 dicembre 2020 erano 30.860. Negli ultimi sette giorni ci sono stati in media 95 decessi al giorno. Nello stesso periodo di un anno fa erano stati 629, ha ricordato Draghi.